Concentrazione massima alla vigilia della partita che può valere la stagione. Lontano dalle pressioni esterne, Lavellino è al lavoro a Colli del Tronto, cittadina marchigiana scelta come sede del ritiro, chiesto dai calciatori, e iniziato nella serata di ieri. Domani c'è la cruciale sfida contro l'Ascoli di Sterse Cosmi, dopo aver recuperato Bidewi Engawa. Foscarini, che ha invece incassato l'ennesimo forfè di Cabezas, spera di poter contare anche su D'Angelo. Il capitano, in panchina nelle ultime due gare, non gioca dal match interno con il Perugia e continua ad accusare dolore alla caviglia sinistra al momento di calciare, ma farà di tutto per essere della contesa, pure per ovviare all'indisponibilità di Derisio, che si è lussato la spalla destra nelle prime battute dell'incontro di martedì scorso contro il Cittadella. Se D'Angelo non dovesse farcela, in mediana toccherà a Moretti affiancare di Tacchio, che il 28 febbraio 2009, appena 19enne, esordì in Serie B in maglia bianconiera, proprio contro l'Avellino. Non è però tempo di Amarcord, fondamentale non perdere una vittoria, varrebbe invece una mezza ipoteca sulla permanenza in Serie B. E allora, equilibrio, primo non prenderle, ma fare puntati pure sulla pericolosità offensiva. In attacco si va verso la conferma del tandem Morosini-Castaldo, con Asenzio alternativa al trequartista Bresciano. Dalla cintola in giù, invece, ci saranno novità non solo forzate, possibile un turno di riposo per Gavazzi, grazie al ritorno dalla squalifica di Marchizza, che permetterà alla Verone di agire sulla fascia destra della linea 4 difensiva davanti a Radu, completata da Angawa e Migliorini. Sui esterni, a centrocampo, inamovibili a Yusci e Molina. Insomma, l'undici iniziale è già fatto, salvo sorpresa tattica che risponderebbe al nome di 3-5-2.